Il premio San Pietro a Maiella è un grande privilegio che il Conservatorio di Napoli mi fa. È ancora più significativo per me riceverlo proprio ora, all'interno delle celebrazioni del centenario di Caruso. Enrico Caruso è il tenore, è un mito eterno. È stato un'ispirazione per me e per tanti tanti altri artisti come me, soprattutto per tutti i tenori. Ringrazio il Presidente Luigi Carbone, il Direttore Carmine Santaniello e tutti coloro che hanno organizzato questo premio. Non vedo l'ora di visitare le meraviglie del Conservatorio San Pietro a Maiella, che è il più antico al mondo e appartiene proprio a Napoli. La città di Caruso con la sua atmosfera, la sua storia e soprattutto con la sua magnifica musica, la canzone napoletana che adoro. Saluti dall'Archivio Storico del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.